Ok, siamo alla fine, io vi ringrazio, ma Piero, scusa Piero, cosa fai qua nell'ombra? Scusa Piero, Piero Gallesi, Piero Antonio Gallesi, cosa fai qua nell'ombra? Niente. Allora, Piero Antonio Gallesi, questo stranissimo personaggio qua, che mi porto dietro da anni così mi scalda il pianoforte prima che faccio il concerto io, è un suonatore di mille strumenti, fiati, pianoforte, fisarmonica, corna musa, ma soprattutto suona lo scioffar, spiega scioffar, scusa, io lo chiamo il cornacchione. E' un corno, si usa nella ritualità ebraica, viene suonato, sancisce dell'inizio delle fini, viene suonato per esempio il giorno di Rosh Hashanah, il giorno di Capodanno, c'è una sequenza precisa di suonerie da rispettare, e questa suoneria di scioffar indica l'inizio dell'anno, si suona per esempio alla fine del digiuno di Yom Kippur e indica la fine del digiuno di Yom Kippur. E' sostanzialmente un corno, quello che ho io è un corno di kudu, è un antilope. E' namigiana, le ho viste, c'erano delle corna pazzesche, ci sono piccoli comunque, è un suono bello, bellissimo, lui è l'unico italiano che lo suona, quindi rendetevi conto quanto sia difficile. Siamo in chiusura e io ti chiedo, visto che ci sono degli amici anche di Voghera, ci sono o sono già scappati, sono casalinga, e che conoscono il dialetto, e comunque vabbè, chiudiamo con questo brano, dai. E' brevissimo, da solo, se lo faccio la fisarmonica, io ovviamente vi ho imposto di non portare la fisarmonica e vi lo faccio al piano. Questo è tradizionale piemontese, si canta la sera di Pasqua. E' un'altra parte, è un'altra parte, è un'altra parte. E' un'altra parte, è un'altra parte. E' 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 un'altra parte.